Io avrei trovato un altro modo, non si può fare in chiesa, lo facciamo sulla piazza, per esempio, dove c'è meno possibilità di contagio. Cioè scegliamo un posto molto ampio nel quale non c'è il pericolo del contagio. Abolire vuol dire un po' aumentare la paura e noi non dobbiamo aumentare la paura, noi dobbiamo essere molto obiettivi, la chiesa deve essere obiettiva. Oggi il Papa fa la sua processione, la sta facendo adesso. E però noi stiamo parlando di quelle zone d'Italia che sono nella zona rossa, nella quale è chiedato qualunque tipo di contatto. Don Pietro non piace questo provvedimento, mi pare di capire. No, 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 nelle chiese forse sì, ma per esempio il provvedimento che è anche stato dato a Roma della comunione sulle mani, ma abbiate pazienza, ma io ogni volta che do la comunione sulla lingua alle persone, alla fine le mie dita sono una collezione di salive. Una collezione di salive sono. Adesso poi sentiamo il virologo che le darà delle istruzioni. È un provvedimento a mio avviso, oltre al simbolismo che ha un grosso simbologia, la mano a forma di croce, nelle difficoltà della mia vita viene il Signore. Questo è il simbolismo antico, ma sull'igiene, ma io, vero, vengono persone anziane, vengono di giovani, vengono di giovani, vengono di giovani. Io do la particola e lettano la saliva dell'altro. Ma che meraviglia! Ma non c'è solo. No, non so, allora, mi rivolgo a Pregliasco, primo perché Pregliasco...